Ciao people, benvenute e benvenuti in questo mio nuovo vlog. Mi dispiace tantissimo che per un bel po' di settimane non ho potuto caricare i video sul mio canale, però appunto, avendo cambiato casa, poi ci hanno messo vent'anni per rimettermi la connessione. E quindi nulla, ci tenevo soltanto a scusarmi. Comunque, oggi è 22 ottobre e io, Roberta e Fabiano stasera andremo a vedere Game Therapy al cinema. Per chi non lo sapesse, Game Therapy è un film che hanno fatto Federico Glapis, Joda, Favijay e Leonardo De Carli e quindi nulla, stasera appunto, cioè oggi uscirà il cinema e stasera ce l'andremo a vedere. Allora, c'erano diversi spettacoli, c'erano lo spettacolo delle 9 di mattina, delle 3 di pomeriggio e delle 8 di sera, cioè così ci hanno detto, poi c'erano sicuramente altri spettacoli e noi abbiamo preso quello delle 8. Adesso sono le 3.55 e io devo andare a finire i compiti. Stasera però Roberta mi verrà a prendere verso le 7, perché noi andiamo un'ora prima, perché prima che andiamo lì troviamo parcheggio e poi ci volevamo fare un giro nel centro commerciale. Comunque, ora vado subitissimo a finire i compiti e ci vediamo fra un po'. Allora, eccomi qua, sono le 6 in quarto e ho appena finito di fare i compiti. Allora, volevo scusarmi per prima perché stavo parlando leggermente veloce, però appunto avevo paura che non riuscivo a finire i compiti in tempo, perché comunque però per domani ho un bel po' di compiti, quindi volevo sbrigarmi e avevo paura che appunto non riuscivo a finirli tutti per le 7. Comunque, ora appunto, come potrete vedere, si va, qua ci sta mia sorella e qui mi sto preparando tutte le cose, ho preparato la borsa, tutto quanto e nulla, ora mi vado a cambiare io e poi aspetto che arriva Roberta. Allora, eccoci qui, dietro c'è mia sorella, allora siamo pronte e sono le 7, quindi stiamo andando, stiamo andando incontro a Roberta. Allora, già siamo arrivati al centro commerciale, qui c'è Roberta, qui c'è mia sorella Fabiana e Roberta è passata un attimo da coin e ora andiamo a fare la fila per il biglietto. Allora, eccoci qua, sono le 7.55 e ora stiamo per andare su, abbiamo preso le M&M's e le Poppy Porn e nulla, e ora penso che saliamo. Ok, ora stiamo strappando il biglietto. Ok, stiamo cercando la sala, che siamo sala 1, quindi... Ah, e ci sta qui, ci sta qui, e ora entriamo, non si vedrà nulla. Si incontrano e secondo lei la gente quale direzione sceglierà? Si vede. Ci dica almeno perché crea M&M's? Beh, bene, io creo giochi perché voglio dominare il mondo, ma invece che fa scoppiare una guerra per rubarla a qualcun altro, io ho deciso di costruirmi il mio, con le sue regole e i suoi concili. Un mondo che non si piega al volere dei governi e che non presta attenzione alla perversa e primitiva dittatura delle masse. È un mondo che si piega soltanto al mio volere. Io sono la sua unica ragione di esistere. Senti, si vengono tutti con il gel. È molto buono, è bella, è molto bella. Oh, la vita! A girare una mangiata in Italia e so che non c'è la mettere più tempo nei video. A Los Angeles è andata a girare. Eccoci qua, sono le 10.22 e il film è finito. Ti è piaciuto? Ahah. Sì, è stato bellissimo. Sì, mi è piaciuto. E nulla, ora stiamo andando a prendere la macchina. E nulla, appunto andiamo ora a prendere la macchina e poi andiamo a casa. Allora, eccomi qua, siamo tornati a casa. Ora sono le 11.05 e nulla. Il film è stato veramente bellissimo. Io mi sono divertita tantissimo con mia sorella Fabiana e con Roberta. Noi ci siamo divertite tantissimo. E nulla, spero che anche a voi questo vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. E qui sotto magari fatemi sapere se anche voi siete andate a vedere Game Therapy e magari cosa ne pensate. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!